Affronteremo il mondo dell'intelligenza artificiale generativa da un punto di vista professionale, mettendoci proprio nei panni della professione che ciascuno di noi può incarnare e con la quale può affrontare questo nuovo mondo che si è dispiegato attorno a noi. E cercheremo di affrontarlo non solo in modo pratico, ma anche per poter capire come, sperimentando l'utilizzo di questa nuova tecnologia, tenderemo sempre di più ad utilizzarla nella consapevolezza che non deve sostituirci, ma deve aiutarci un po' come un bravo assistente personale nelle varie attività della nostra giornata. Per cui apprestiamoci ad approfondire tutti i singoli argomenti con questo atteggiamento consapevole, pragmatico, senza dimenticare che sicuramente questa è la sfida della nostra generazione.